FIPE LIVER Un chilometro di coda per un incidente al chilometro 7500 tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna. Code a tratti tra La Strassigna e Firenze Scandici. Code in uscita La Strassigna provenendo da Firenze. Per i treni a causa del maltempo circolazione sospesa tra Marradi e Faenza. Per il maltempo sospesi anche i traghetti con l'arcipelago. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie!